Una superstar del mondo intellettuale, autore prolifico e conclamato anarchico all'età di 86 anni, non sembra ancora essersi arreso, inveisce sempre e soprattutto nei confronti dell'Occidente contro tutta una serie di ingiustizie percepite. Siamo negli Stati Uniti per incontrare Noam Choms, e lo abbiamo intervistato qui nel suo ufficio al Massachusetts Institute of Technology per The Global Conversation. Grazie di essere qui con noi. Il mondo nel 2015 sembra un posto davvero effimero. Se invece lo guardassimo da un altro punto di vista, lei si sente ottimista o pessimista rispetto alla situazione generale? Nel panorama globale stiamo correndo verso un precipizio in cui siamo destinati a cadere e che ridurrà drasticamente le prospettive di una vita decente. Di che precipizio parla? In realtà ce ne sono due. Il disastro ambientale è ormai imminente e per cui non abbiamo tempo da perdere, anche se stiamo andando decisamente nella direzione opposta. E la minaccia di una guerra nucleare che ormai dura da 70 anni e che adesso sembra cresciuta. E' un miracolo che siamo sopravvissuti fino a qui. Consideriamo la questione ambientale. Abbiamo ricevuto come sempre molti quesiti dal nostro pubblico sui social media. Tra le tante ho scelto questa domanda di Enea Goli che chiede, analizzando il problema ambientale, guardando con gli occhi di un filosofo, cosa pensa del cambiamento climatico? La specie umana, dopo centomila anni, ora si trova ad affrontare un momento unico nella sua storia. È in una posizione tale per cui dovrà decidere in fretta, per le generazioni future, se continuare l'esperimento nella cosiddetta vita intelligente oppure capitolare. Voglio dire che gli scienziati riconoscono in modo severo che la maggior parte dei combustibili fossili devono essere lasciati nel terreno affinché i nostri nipoti possano avere prospettive decenti. Ma la nostra società continua a fare pressioni per estrarre fino all'ultima goccia. Gli effetti previsti, le conseguenze provocate dal cambiamento climatico in un futuro non molto lontano, sono catastrofici e noi stiamo correndo incontro a quel precipizio. Per quanto riguarda la guerra nucleare, abbiamo assistito al raggiungimento di un primo accordo preliminare con l'Iran. Questo non le dà un barlume di speranza sulla sicurezza nel mondo? Sono a favore della politica dei negoziati con l'Iran, ma si tratta di colloqui troppo condizionati. In Medio Oriente ci sono due stati scatenati che mettono in atto di continuo aggressioni, violenza, terrorismo e operazioni illegali. Sono due grandi stati dotati di armamenti nucleari, ma sembra che le loro armi nucleari non vengano considerate. A chi si riferisce esattamente? A Stati Uniti e Israele. I due stati nucleari più grandi del mondo. Intendo che c'è una ragione per cui nei sondaggi internazionali che sono gestiti dalle agenzie americane, gli Stati Uniti risultano essere la più grande minaccia alla pace del mondo. Nessun altro paese ha questi livelli. Ma la cosa interessante è che nessun media statunitense lo ha pubblicato. Lei non ha una grande stima del Presidente Obama, ma questo progetto non le fa pensare a lui in termini leggermente migliori? Il fatto che stia cercando di ridurre la minaccia di una guerra nucleare? In realtà non lo sta facendo. Obama ha appena avviato un programma per miliardi di dollari per modernizzare il sistema nucleare statunitense, il che significa che sta ampliando il suo deposito nucleare, che è una delle ragioni per cui il famoso orologio dell'Apocalisse, ideato dal Balleting of Atomic Scientists, solo un paio di settimane fa, ha spinto la lancetta due minuti più vicino alla mezzanotte. Mezzanotte che rappresenta la fine, a cui ora mancano solo tre minuti. L'orario più vicino alla fine del mondo degli ultimi trent'anni, dal periodo di Reagan, quando la paura di una guerra nucleare era sensibilmente maggiore. Lei ha citato Stati Uniti e Israele in termini di Iran. Il primo ministro israeliano, Netanyahu, però non vuole l'accordo sul nucleare in questi termini e dice... Interessante, dovremmo chiederci il perché. Perché? Lo sappiamo perché. L'Iran ha bassissime spese militari, anche per gli standard della regione, per non parlare degli Stati Uniti. La dottrina strategica dell'Iran è difensiva, concepita per sopportare un attacco abbastanza lungo, perché ci sia margine di trattativa. I Stati Uniti e Israele, i due stati canaglia, non tollerano più la minaccia. Nessun analista strategico con un po' di cervello pensa che l'Iran voglia usare le armi nucleari. Anche se il paese fosse pronto a farlo, sarebbe spazzato via, e non c'è alcuna indicazione che chi manovra le cose vorrebbe vedere ciò che ha distrutto. Ancora una domanda su questo tema. Arriva via social media e da Morten Anderson, che chiede, lei pensa che gli Stati Uniti firmerebbero mai un accordo che metta in pericolo Israele? Gli Stati Uniti stanno portando avanti costantemente azioni pericolose per Israele, molto serie, sostenendo la politica israeliana. Negli ultimi 40 anni la più grande minaccia per Israele è stata la sua stessa politica. Se si guarda indietro di 40 anni, fino al 1970, Israele era uno dei paesi più rispettati e ammirati del mondo. C'era un sacco di atteggiamenti favorevoli nei suoi confronti. Ora è uno dei paesi più disprezzati e temuti al mondo. Nei primi anni 70 Israele ha preso una decisione. Ha fatto una scelta e preferito investire sull'espansione anziché sulla sicurezza, il che porta con sé conseguenze pericolose, conseguenze evidenti da subito, come ho scritto io e altri autori l'hanno fatto, se si preferisce lo sviluppo alla sicurezza si va incontro alla crisi interna, con rabbia, opposizione, isolamento e infine distruzione. Sostenendo politiche simili, gli Stati Uniti contribuiscono ad alimentare le minacce che Israele deve affrontare. Il che mi porta a trattare il tema del terrorismo, una piaga internazionale. Alcuni, compreso lei, immagino, dicono che questo sia il risultato di una politica terroristica messa in atto dagli Stati Uniti nel mondo. Quanto pensa centrino Stati Uniti relativi alleati nella responsabilità di ciò che sta accadendo oggi in termini di attacchi terroristici? Si ricordi che la più terribile campagna terroristica del mondo è di gran lunga quella orchestrata da Washington, una campagna di assassino mondiale. Non esiste una campagna terroristica simile. Per campagna di assassino mondiale cosa intende? L'utilizzo dei droni, che conosciamo. Gli Stati Uniti, sistematicamente, pubblicamente, apertamente, portano avanti in estese parti del mondo e non c'è nulla di segreto riguardo a quello che sto dicendo, lo sappiamo tutti, regolari battaglie per assassinare persone sospettate dal governo degli Stati Uniti dell'intenzione di nuocerli un giorno. E in effetti è, come lei ha ricordato, una campagna che produce terrore. E quando si bombarda un villaggio nello Yemen e si uccide qualcuno, forse è la persona giusta, forse no, e vicino c'erano altre persone, come pensa possano reagire? Cercheranno di vendicarsi. Lei parla degli Stati Uniti come lo Stato terroristico per eccellenza e l'Europa dove si trova in questo quadro? Domanda interessante. Di recente è stato fatto uno studio, forse dalla fondazione Open Society, la peggiore forma di tortura è prendere qualcuno di cui sospetti e spedirlo al tuo dittatore preferito, che sia Assad o Gheddafi o Mubarak, per farlo torturare, sperando che possa dire qualcosa di utile. L'hanno chiamata Extraordinary Rendition. La ricerca ha recensito i paesi che hanno partecipato a questa operazione. Naturalmente vi troviamo alle dittature del Medio Oriente, perché è lì che sono stati inviati per essere torturati. E l'Europa? Nell'Europa troviamo Inghilterra, Svezia e altri paesi. In realtà c'è solo una parte del mondo che non è stata coinvolta, l'America Latina, il che è abbastanza singolare. L'America Latina è ormai praticamente fuori dal controllo degli Stati Uniti. Quando ne era controllata, non tanto tempo fa, era il centro di tortura preferito al mondo. Ecco che però non ha partecipato alla peggiore forma di tortura, che è la Extraordinary Rendition. L'Europa invece sì. E se il leone ruggisce, i servi lo seguono. L'Europa è dunque serva degli Stati Uniti? Decisamente. Troppo godardi per schierarsi in modo indipendente. Vladimir Putin dove sta? Lui è considerato come una delle peggiori minacce alla sicurezza. No? Come la maggior parte dei leader è una minaccia per la sua gente. Ha fatto cose illegali, è vero. Ma dipingerlo come un mostro impazzito con disturbi cerebrali, affetto dal morbo di Alzheimer, mi sembra fanatismo orwelliano. qualsiasi cosa si possa pensare delle sue attività politiche è comprensibile. L'idea che l'Ucraina possa fare alleanze militari con l'Occidente sarebbe inaccettabile per qualsiasi leader russo. E questo ci riporta al 1990, quando l'Unione Sovietica collassò. Si pensava a cosa sarebbe accaduto poi con la Nato. Gorbachev decise che la Germania potesse unificarsi e aderire alla Nato. Era una concessione piuttosto forte, abbastanza notevole, con una contropartita. La Nato non si sarebbe presa un centimetro dell'est. Questa è la frase usata. La Russia è stata provocata? Cos'è successo? La Nato si sposta nella Germania dell'est e Clinton arriva e estende la Nato proprio ai confini della Russia. Quindi c'è stato il nuovo governo ucraino, il governo che si è stabilito subito dopo il rovesciamento del precedente, e il Parlamento ha votato con 300 voti a favore contro 8 o giù di lì per aderire alla Nato. Ma si può ben capire perché del voler aderire alla Nato perché il governo di Petro Poroshenko vuole che la Nato protegga il paese. No, 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 non si tratta di protezione. La scissione della Crimea è avvenuta dopo il rovesciamento del governo, giusto? Questo non è successo per proteggere l'Ucraina, ma per provocare una guerra. Il punto è che questa è una grave minaccia strategica per la Russia, a cui qualsiasi leader russo avrebbe dovuto reagire. Questo è ben chiaro. Se però guardiamo la situazione in Europa, c'è anche un altro fenomeno interessante. Una Grecia potenzialmente tesa verso est con il governo di Sirisa e poi c'è Podemos che sta guadagnando terreno in Spagna e anche in Ungheria. Credi ci sia una qualche possibilità che l'Europa possa iniziare a tessere legami e allinearsi più con la Russia? Guardiamo a ciò che sta accadendo. L'Ungheria è da tutt'altra parte. Sirisa è entrato nel governo sull'onda popolare di chi sosteneva come la Grecia non avesse più dovuto sottostare alle politiche di Bruxelles e delle banche tedesche che stanno distruggendo il paese. L'effetto di queste politiche è stato effettivamente l'aumento del debito della Grecia rispetto alla sua produzione di ricchezza. Probabilmente metà dei giovani sono disoccupati. Probabilmente il 40% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. si sta distruggendo la Grecia. Bisognerebbe cancellarne il debito? Sì, proprio come accade per la Germania nel 1953 quando l'Europa rinunciò alla maggior parte del suo debito. Proprio così la Germania per questo fu in grado di ricostruirsi dopo i danni subiti durante la guerra. E per gli altri paesi europei? Stessa storia. Debito cancellato anche per Portogallo e Spagna? Chi sostiene il debito? A cosa è dovuto? In parte è un obbligo imposto da dittatori. In Grecia dalla dittatura fascista filo Stati Uniti che aveva deciso gran parte del debito. il debito è stato più brutale della dittatura. Nel diritto internazionale è definito il debito odioso che non è necessario pagare e che è stato introdotto nel diritto internazionale dagli Stati Uniti quando era nel loro interesse farlo. Il resto del debito quello che viene chiamato i rimborsi alla Grecia sono in effetti i rimborsi fatti alle banche banche tedesche e francesi che hanno deciso di rendere estremamente rischiosi dei prestiti a interessi bassi e che ora non riescono ad essere restituiti. Vorrei porle questa domanda ora da parte di Jill Gribaudo che scrive come si trasformerà l'Europa di fronte alle sfide esistenziali che sta affrontando? Perché c'è la crisi economica un aumento del nazionalismo e lei ha parlato anche di alcune linee di faglia culturali sorte in tutta Europa come si trasformerà l'Europa? L'Europa ha seri problemi alcuni sono il risultato di politiche economiche fatte dai burocrati di Bruxelles dalla Commissione Europea e così via sotto pressione della Nato e delle grandi banche soprattutto quelle tedesche queste politiche hanno senso dal loro punto di vista per prima cosa vogliono essere ripagati per prestiti e investimenti rischiosi messi in atto e poi queste politiche intendono distruggere il welfare state che non è mai piaciuto ma lo stato sociale è uno dei contributi più importanti dell'Europa alla società moderna i ricchi e i potenti però non lo hanno mai voluto e il fatto che lo si stia distruggendo a loro va bene in Europa c'è un altro problema è estremamente razzista ho sempre ritenuto che l'Europa è probabilmente più razzista degli Stati Uniti non è così visibile in Europa perché le popolazioni europee in passato tendevano ad essere abbastanza omogenee così se tutti sono biondi con gli occhi azzurri non sembri razzista ma non appena la popolazione comincia a cambiare il razzismo affiora dal sottobosco molto in fretta e questo rappresenta un grave problema culturale in Europa vorrei chiudere perché non abbiamo più tempo con una domanda di Robert Light che chiede cosa le dà speranza mi danno speranza a un paio di cose di cui abbiamo parlato l'indipendenza latinoamericana per esempio l'importanza storica lo vediamo ora alla riunione del vertice delle Americhe a Panama nelle recenti riunioni emisferiche gli Stati Uniti sono stati completamente isolati un cambiamento radicale rispetto a 10 o 20 anni fa quando gli Stati Uniti facevano affari con i paesi latinoamericani infatti il motivo per cui Obama ha fatto ciò che ha fatto nei confronti di Cuba è stato per superare l'isolamento degli Stati Uniti sono gli Stati Uniti ad essere isolati non Cuba e probabilmente sarà un fallimento vedremo i segni di ottimismo in Europa sono Sirisa e Podemos speriamo che vi sia una rivolta popolare contro la frantumazione le distruttive politiche economiche e sociali che provengono da banche e burocrazia che sarebbe davvero auspicabile dovrebbe esserlo grazie per essere stato con noi grazie a tutti grazie a tutti